Ciao e benvenuto a questo nuovo video dal mio canale youtube. Oggi parleremo di un altro bonus nel piano dei compensi della doTERRA. Questo bonus ti permette di guadagnare i tuoi prodotti gratuitamente. Si chiama Fast Start Bonus o in italiano il bonus dell'inizio veloce, proprio per provvedere a quei soldi che ti possono aiutare a fare l'ordine il mese dopo. Non basta solo iscrivere persone in modo tale da guadagnare un bonus, il bonus dell'inizio veloce, che viene pagato settimanalmente a differenza degli altri. Quindi ogni settimana questo bonus ti viene pagato sul volume di un nuovo iscritto nei suoi primi 60 giorni. 20% pagato per il reclutamento livello 1, quindi il tuo nuovo iscritto. Per i primi 60 giorni riceverai il 20% sugli acquisti che questa persona farà, quindi sul suo fatturato del mese. Quindi è due mesi, guadagnerai il 20% su di lui. Ok, ogni reclutatore deve avere un 100 PV nell'ordine LRP. Questo è un requisito di questo bonus. Abbiamo detto che questo bonus è pagato per i primi 60 giorni e tu guadagni il 20% sugli acquisti del tuo personale iscritto. 20% per i primi 60 giorni. Dopodiché se il tuo iscritto iscrive un suo persona, un suo conoscente o amico, tu riceverai il 10% del secondo livello, che il tuo iscritto prenderà il 20% i primi 60 giorni, tu il 10. E così come bonus generazionale, ancora andando giù, terzo livello, terza generazione, tu guadagnerai il 5%. Ricorda che questo viene pagato settimanalmente, quindi è importante mantenere sempre almeno 100 PV nel tuo carrello per partecipare a questo bonus. Mi raccomando, attenzione, altrimenti ti perdi i soldi, perdi il bonus di questo tipo di bonus, il fast start. Quindi attenzione ai requisiti e buon lavoro!